Musica Dunque direttore cerchiamo innanzitutto di dare un po' un inquadramento generale perché come abbiamo detto ci sono delle novità novità che riguardano in particolar modo a partire dal 2018 i lavoratori precoci e l'APE social Al momento siamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo delle norme contenute nella legge di stabilità per il 2018 che introducono queste norme dei cambiamenti importanti dei miglioramenti importanti alle due norme quella dell'APE sociale e quella dei lavori precoci sostanzialmente le novità sono sei quelle più importanti più significative sono state aumentate di cinque categorie le tipologie di lavoro usurante è stato introdotto un bonus di due anni per l'accesso all'APE sociale per le donne che durante la vita lavorativa hanno avuto figli e sono stati inseriti anche i disoccupati per fine contratto di lavoro a termine è stato esteso il diritto all'accesso per le persone che assistono familiari in situazione di gravità fino al secondo grado di parentela è stato ampliato il periodo di svolgimento del lavoro gravoso da 7 a 10 anni da 7 a 7 anni negli ultimi 10 anni scusami ed è stata eliminata la tariffa INAIL del 17 per mille quella tariffa che era indispensabile per l'accesso al beneficio con la categoria dei lavori pesanti Remo Pagnanelli, poeta e critico letterario conoscitore di arte, musica e cinema un intellettuale insomma a 360 gradi la sua figura e i suoi lavori verranno ricordati a macerata in tre serate di febbraio grazie all'associazione nata in suo onore la prima il 3 febbraio alle ore 17 dove è protagonista l'arte ci sono 15 artisti che hanno voluto interpretare rappresentare la poesia di Remo Pagnanelli e accanto a loro ci sarà anche il professor Roberto Cresti dell'Università di Macerata che terrà una relazione sul Remo critico d'arte la seconda serata dal titolo quasi un consuntivo il 10 febbraio nella stessa sala Castiglioni alle ore 17 alla presenza invece della curatrice del volume edito da Donzelli quasi un consuntivo la professoressa Taliana Marcheschi la direttrice della biblioteca Alessandra Sfrappini e la professoressa Lucia Tancredi parleremo proprio della poesia di Pagnanelli nella terza serata invece il 17 febbraio sempre alle ore 17 sempre nella stessa sede ci saranno tanti amici di Remo per parlare del suo approccio come critico letterario della sua visione dell'arte della sua passione per la musica e quindi affronteremo Remo si intitola infatti la serata il filo del pensiero affronteremo Remo nelle varie sfaccettature nelle varie aspetti della sua vita da intellettuale a Macerata una vita appunto da intellettuale ma non solo importante fu anche il suo impegno civico e pochi sanno che nei suoi ultimi anni egli fu giornalista sotto uno pseudonimo e quello di Matteo Ricci addirittura ora quasi a consuntivo per riprendere un tema quasi a consuntivo di questo suo impegno civile da giornalista il Pozzo ricordiamo fu l'unico locale che chiusse per lutto perché il Pozzo era un po' il caffè letterario caro a Remo e al suo gruppo organizzerà un incontro a cui parteciperanno tanti amici quelli che parteciparono insomma qualche mese prima che morisse a una tavola rotonda affollatissima sul futuro e sui destini di Macerata Granne